Alta tensione febbrile attesa al Comune dell'Aquila a cinque giorni dalla decisiva approvazione del bilancio di previsione. Missione impossibile se non arriveranno garanzie da parte del Governo sullo stanziamento da 19 milioni di euro come contributo straordinario post-sismico. Il sindaco Massimo Cialente ieri è tornato a Roma e si è detto fiducioso che a giorni arriverà una lettera ufficiale da Palazzo Chigi in cui sarà confermato che i fondi saranno inseriti nel decreto antilocali di fine giugno. Il Comune potrà in questo modo approvare intanto un bilancio seppure di natura tecnica in cui dovrà però essere tagliato tutto il tagliabile, dovranno essere aumentati i costi dei servizi e soprattutto la tassa dei rifiuti. La conferma viene dal capogruppo del Partito Democratico Stefano Palumbo, anche lui a Roma ieri assieme al sindaco. Ieri è stato soltanto l'ultimo passaggio di una serie di incontri e colloqui con fronti sia istituzionali che politici attraverso i quali stiamo definendo un impegno da parte del Governo a un trasferimento che avverrà dopo l'approvazione del bilancio perché l'unico traghetto utile e possibile è quello del decreto antilocali che è programmato in Parlamento per giugno e che dovrebbe garantirci appunto la possibilità in una fase successiva attraverso una variazione di bilancio di poter approvare un bilancio vero al contrario di quello che andiamo a approvare lunedì che è un bilancio tecnico dove sono state tagliate tutte le spese non essenziali. Cosa sarà tagliato? Ma diciamo che spese alla cultura, al turismo, pre-pubbliche ma invece verranno garantite e questo insomma ci tengo a rivendicarlo, tutti i servizi sociali, i servizi essenziali quelli non verranno toccati, abbiamo fatto insomma un lavoro che tutelasse questa esigenza.